Bellinzago Novarese ha ospitato la quinta prova dei massimi campionati azzurri sulle tre e quattro ruote artigliate, dove i fratelli Lasagna per i Sidecar e Patrick Torrini per i Quad hanno messo in archivio altri buoni punti per laurearsi con loro nei due campionati. La categoria qui X1 si è schierata e cancelletto abbinata alla classe Sport dove la bagarre si è apprezzata sia in Manche 1 che in gara 2 con Simone Mastronardi a vincere gara 1 per la classe Regina, ma costretto a lasciare gara 2 e la Manche super campione, altre volte il campione italiano Quad Cross Patrick Torrini. Il terzo gradino del podio qui X1 è stato a fare di Nicola Ruan. Duello mozzafiato anche nelle Manche super campione con dieci piloti schierati dietro al cancelletto dove a imporre il passo è stato Patrick Torrini, subito seguito da Simone Mastronardi, a sua volta attanagliato da Gianmarco Monci. Il resto della top ten si completava con Davide Gigli, Alessandro Fontanazzi, Leonardo Cazzullo, Rodolfo Salustri, Marco Salustri, Simone Chiappone e Nicola Ruan. Per quanto concerne la classifica di giornata della classe Sport, il podio si costruiva con Gianmarco Monci, Simone Chiappone e Leonardo Cazzullo, mentre Andrea Zucca, Simona Scroglieri, Marco Salustri e Lorenzo Portolozzo andavano a completare il resto della compagine della classe. Onore e meriti per Gianmarco Monci, che diventa campione italiano classe Sport con una gara di anticipo e 284 punti in tasca. Elena Lercia ha incassato nuovamente il risultato nella classe Trofeo, subito seguita da Riccardo Carozza e Beatrice Grola, mentre Franco De Simone ha autografato una quarta posizione davanti a Giovanni Ferretti e Yuri Croppi. Per la classe veteran, Davide Gigli ha dato tutto laureandosi con l'oro di giornata, mentre Argento e Bronzo sono andati ad Alessandro Fontanazzi e a Rodolfo Salustri. Subito giù dal podio si trovava Silvano Crola, Leonardo Arzani e Daniele Buzzi. Edoardo Cazzola ha scalato il gradino più alto del podio dopo le due manche dedicate alla classe 250, mentre l'Argento e il Bronto sono andati rispettivamente a Kevin Sangani e a Francesco Gullo. Subito giù dal podio si sono imposti Riccardo Gullo e Tommaso Cappelotto-Cappiotto. Sette ricetteartenze. Settere abitanti. Settere amore. Sette gli equipaggi sidecar che hanno affascinato il circuito di Bellinzago Novarese con i fratelli Lasagna a laurearsi con un nuovo oro per la stagione in corso, in questa occasione più prestanti dell'equipaggio Fiorini Fiorini e Pozzo Pedrini. Bene anche la prestazione del resto dei team. Ora le tre e quattro ruote artigliate quad cross e sidecar cross si apprezzeranno nuovamente durante il Trofeo delle Nazioni di Scena a Ramolin Repubblica Ceca il prossimo 24 e 25 settembre. Grazie per la visione!